L'azienda annuale ha avuto un'altra bassa. La acqua del mondo sarà ridotta da 40% nei prossimi 10 anni. Sono venuto a farle visita oggi perché abbiamo bisogno di un astrobiologo per una nostra importante missione. La stazione Maile. Una volta scesi sulla Luna, la vostra missione è recuperare un campione e tornare sulla Terra. Andiamo alla stazione. Ci vorrà un po' prima che arrivi la navicella di salvataggio. Dobbiamo solo fare quello che ci dicono. Concentriamoci sulla missione. Dobbiamo condurre un'indagine approfondita della stazione. C'è qualcosa lì dentro. Ma che diavolo è successo qui dentro? Capitano, bio-segnale in avvicinamento. È proprio davanti a noi. Cosa sarà stato? Ci sono troppe cose che non tornano. E se il rapporto del governo non avesse detto il vero? Voi volete che questa missione sia un successo, no? Brancoliamo nel buio. Dobbiamo andarcene da qui. Indossate le cutenti contaminazione! Viare SOS è uscita. Comunicazione interrompita. Grazie a tutti. Grazie a tutti